Il nostro cinema contiene nel suo DNA una tensione alla dimensione nazionale, sin dal tempo in cui ha contribuito con le pellicole degli anni 40 e 50 a consolidarne la lingua in un Paese dai molti dialetti. Questa tensione si arricchisce con la creatività, così ampiamente manifestata, con i successi nazionali e internazionali, con la rilettura della storia, degli eventi, dei protagonisti, con i valori di umanità, con i sentimenti che aiutano a rafforzare il senso di comunità. Abbiamo bisogno del cinema, della sua sensibilità, della sua arte, delle sue visioni plurali. La storia del cinema ci ha fatto conoscere e apprezzare queste sue capacità. Buona serata dei David. Grazie.